Sei persone arrestate per assassinio vertical bar. Scandalo, eredità vertical bar in Ciesta. Sapevi che sei persone sono state arrestate in relazione a un caso di omicidio sconvolgente legato a un'eredità multimilionaria? Sì, hai sentito bene. Questa non è solo una semplice storia di crimine. È piena di dramma, tradimento e colpi di scene incredibili. Resta con noi, perché quello che stai per sentire è davvero sbalorditivo. Oggi esploreremo una storia avvincente di tradimento, avidità e il lato oscuro delle eredità familiari che ha portato a questi arresti. Man mano che sveliamo gli strati di questo caso scioccante, vedrai fino a che punto alcune persone sono disposte a spingersi quando si tratta di denaro e potere. Fidati, sarà un viaggio mozzafiato. Ok, parliamo del cuore della questione. Il desiderio di ereditare può spingere le persone a compiere atti atroci, ed è esattamente ciò che è successo in questo caso. Immagina di essere così ossessionato dalla prospettiva della ricchezza da voltare le spalle alla tua stessa famiglia. È un pensiero agghiacciante, ma spesso è la realtà in casi come questo. Le persone iniziano a complottare, tramare, e prima che te ne accorga, sono disposte a fare cose indicibili pur di assicurarsi un futuro finanziario. Questo desiderio di ereditare può creare un ambiente tossico, trasformando i propri cari in rivali. E quella rivalità può portare a decisioni pericolose che cambiano la vita per sempre. Ora, esploriamo un po' il contesto del caso. La vittima, che possedeva una fortuna, aveva rapporti complessi con le persone a lei vicine. Ci sono fratelli, cugini e persino alcuni amici intimi coinvolti in questa rete di inganni. Man mano che scaviamo più a fondo, scopriamo come queste relazioni siano cambiate nel tempo, soprattutto con l'avvicinarsi dell'eredità. Le tensioni sono aumentate, le amicizie si sono deteriorate e si sono formate alleanze man mano che il conto alla rovescia verso l'inevitabile confronto avanzava. Gli eventi che hanno preceduto il crimine sono tanto scioccanti quanto il crimine stesso, con sussurri di tradimento che risuonano durante riunioni familiari e conversazioni che sono diventate sinistre. È quasi come una soap opera nella vita reale. Un mix di amore, avidità e, alla fine, tragedia. L'indagine ha preso una svolta drammatica quando sono emerse nuove prove che puntavano direttamente agli arrestati. Quello che sembrava un caso complesso è improvvisamente diventato chiaro e la polizia è riuscita a collegare i punti. Testimonianze oculari, tracce digitali e persino alcune registrazioni segrete hanno dipinto un quadro vivido della cospirazione che era in atto. Sono state rivelate le motivazioni sconvolgenti dietro il crimine, mostrando che queste persone non cercavano solo denaro. Erano spinte da un disperato bisogno di controllo e da un senso distorto di giustizia. È un momento che ti tiene con il fiato sospeso, facendoti capire fino a che punto le persone possono spingersi quando sono sotto pressione. In sintesi, questo caso mette in luce gli estremi a cui le persone sono disposte a giungere per il denaro e le conseguenze che ne derivano. È un chiaro promemoria che l'avidità può corrompere anche le relazioni più strette, trasformando i membri della famiglia in nemici. Le conseguenze di questo omicidio non solo hanno cambiato la vita di coloro che erano coinvolti, ma hanno anche rappresentato un monito sul lato oscuro dell'eredità. E tu? Cosa pensi dei mezzi che le persone utilizzano per ottenere denaro? È mai giustificabile o porta sempre alla tragedia? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e non dimenticare di dare un'occhiata ai nostri altri video per altre storie affascinanti come questa. Continua a coltivare la tua curiosità e ci vediamo alla prossima!